Oggi parleremo di due azioni super interessanti, entrambe hanno perso tantissimo dai massimi, una ha perso oltre il 50%, l'altra invece è intorno a una perdita del 50% dai massimi che aveva raggiunto. Benvenuti su Investire con Gus, oggi guarderemo due analisi di Freedom24, infatti sul sito di Freedom24 si possono trovare delle analisi, delle idee di investimento veramente molto interessanti in certi casi, soprattutto sul sito in inglese si trovano delle idee di investimento molto interessanti, infatti probabilmente arriveranno anche altri video, perché ultimamente stanno portando delle idee che condivido, stanno portando idee di investimento su azioni che sono nel mio radar, ad esempio le due di cui parleremo oggi sono due azioni che avevo già in watchlist, perciò quando ho visto queste due analisi ho pensato di farci un video. Perciò per prima cosa vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito di Freedom24 e di andare a guardare nello specifico le idee di investimento di Freedom24 sul sito in italiano ma soprattutto sul sito in inglese, perché sono veramente molto interessanti. Seconda cosa vi lascio il link affiliato in descrizione, così vi basta cliccare su quello per andare a vedere le idee di investimento su Freedom24 e se volete potete anche aprire un account con Freedom24 utilizzando il mio link affiliato. Freedom24 è un broker regolamentato molto conveniente con cui si pagano commissioni veramente basse, addirittura per il primo mese dalla apertura dell'account sono gratuite, quindi non si paga alcuna commissione. Registrandovi col mio link affiliato potrete ricevere un'azione gratuita. E la cosa più importante di tutto è il fatto che nel caso in cui Freedom24 dovesse fallire, cosa altamente improbabile, i clienti avranno il diritto di richiedere un risarcimento al compensation fund per un massimo di 20.000 euro. Quindi anche se Freedom24 dovesse fallire, tendenzialmente i nostri soldi sarebbero protetti fino a 20.000 euro. Ma adesso iniziamo a guardare queste azioni e andiamo subito a vedere la prima. La prima azione di cui parleremo oggi è Big Five. Questa è una società che opera nello stesso settore di ASU, quindi vende articoli sportivi. Come vedete il grafico è un po' pazzerello. Questa azione ha una volatilità veramente folle. Il super spike, il super rialzo che vedete qua, è stato dovuto a WallStreetBets. Infatti avevano iniziato a pompare questa azione perché era super shortata. E in pochi giorni è passata da 23 dollari per azione a circa 48 al massimo. Per poi sgonfiarsi in una maniera clamorosa e al momento sta intorno ai 13 dollari per azione. Quindi quando si pensa a questa azione bisogna tenere bene a mente che è estremamente volatile. Durante il periodo pandemico aveva raggiunto una quotazione inferiore a un dollaro. Veramente pazzesco. Per poi risalire senza fiato fino a 37. Però lo stesso può succedere nell'altro verso. Infatti aveva raggiunto un massimo intorno a 20 per poi crollare al di sotto di un dollaro per azione. Quindi non è sicuramente un'azione per deboli di cuore. Stiamo guardando il grafico della piattaforma web di Freedom24. E devo dire che non è per niente male. Il grafico è molto carino da visualizzare sulla piattaforma di Freedom24. Adesso vediamo le analisi di Freedom24. Gli analisti ci dicono che il loro prezzo d'ingresso è di 13,25 dollari con un target price di 28. Il dividend yield potenziale è del 7,5% e secondo loro si può raggiungere questo target di 28 entro 6 mesi. Sapete già come la penso su questo, sui target di breve termine. Sapete che sono un investitore a lungo termine e quindi tralasciamo questo aspetto. Big Five è un rivenditore di attrezzatura sportiva, vestiti e qualsiasi altra cosa per gli sport. Gli analisti di Freedom24 ci dicono che secondo una ricerca di Grandview Research il mercato dell'attrezzatura sportiva statunitense è previsto crescere ad un CAGR quindi a un tasso di crescita annualizzata del 6,1% fino al 2030. Nel 2022 si prevede che le vendite di attrezzature sportive vadano a calare un pochino perché negli scorsi due anni le vendite sono salite tantissimo però l'outlook di lungo termine rimane positivo. Anche l'outlook per il vestiario sportivo è estremamente positivo si prevede un CAGR del 7,8% tra il 2021 e il 2025. Ma adesso diamo un'occhiata al bilancio. Come vedete i ricavi sono stati piatti sostanzialmente per molti anni poi nel 2021 e nel 2022 hanno accelerato la loro crescita grazie al periodo pandemico probabilmente perché molte persone hanno speso molto per attrezzatura sportiva per fare attività outdoor, per fare attività all'esterno. Il miglioramento maggiore è arrivato a livello di utile netto che è aumentato in una maniera folle è passato da 8 milioni nel 2019 a 102 milioni nel 2022. Perciò il mercato è molto dubbioso sul futuro di questa società non è certo che questo aumento dell'utile e questo aumento dei ricavi sia effettivamente sostenibile. Tra un attimo andremo a vedere le stime degli analisti ma prima diamo un'occhiata allo stato patrimoniale la società ha 62 milioni in cash non ha debiti però ha capitalisis a breve termine di 79 milioni e a lungo termine di 220 milioni. Quindi lo stato patrimoniale direi che è abbastanza ok se la società riuscirà a mantenere questi livelli di utile netto o comunque livelli molto vicini a quelli del 2022 dell'anno fiscale 2022. Per l'anno in corso gli analisti prevedono una decrescita dei ricavi del 6,5% e un dimezzamento dell'utile netto. Quindi gli analisti non credono che i margini raggiunti dalla società siano sostenibili. Per il 2023 si aspettano una crescita del 10% dell'utile e del 5% circa dei ricavi. Perciò nonostante la previsione non sia così ottimistica la valutazione della società è veramente bassissima. Al momento il price earning forward è di 5,6%. Storicamente la società nel periodo tra il 2008 e il 2017 ha avuto un PE tra 10 e 15 sostanzialmente con un minimo raggiunto a 6,6%. Perciò al momento siamo a dei livelli di minimo storico. Quindi diciamo che a livello di valutazione questa società è potenzialmente molto interessante. Però a livello di business non saprei cosa pensare. Andrebbe analizzata nel minimo dettaglio per capire se le prospettive future siano buone oppure no. È sicuramente un'azione molto interessante da tenere sott'occhio, da tenere in watchlist. Però immagino sappiate già che c'è un'azione che preferisco a questa, nello stesso settore. Ma adesso guardiamo la nostra azione numero 2. La nostra seconda azione è Medifast. Anche questa è estremamente volatile. Siamo sempre sulla piattaforma di Freedom24 da cui stiamo guardando il grafico. E come qualcuno si ricorderà Medifast è una nostra vecchia conoscenza. È un'azione in cui avevo investito ed è un'azione che avevo trovato nel Magic Formula, nello stock screener del Magic Formula. Su questa ho realizzato un ottimo godagno intorno al 100% in circa un anno. Alla fine ho preso profitto perché gira un bel report short su questa azienda che non sono in grado di confutare. Perché secondo questo report short i prodotti di Medifast sono un pochino discutibili nel senso che potrebbero far male alla salute. Potrebbero avere livelli troppo alti di piombo se non ricordo male. Quindi alla fine avevo optato per vendere l'azione. Però il fatto è che questo report short risale al 2018. Infatti il picco seguito da questo super crollo era dovuto esattamente a quel report short. Alla fine però, per ora, è andato tutto in un nulla di fatto. Nel senso che la società continua ad operare, continua a fare soldi, continua ad accrescere i ricavi perciò ho un po' di difficoltà a dire se effettivamente quel report sia veritiero oppure no. Qualcuno su internet però diciamo che sembra essere abbastanza d'accordo con quel report e parlo dei consumatori di Medifast perché ad esempio se fate un po' di ricerche nei forum che ci sono su internet scoprirete che uno dei soprannomi assegnato a Medifast è Medifart e fart significa scorreggia perché sembra che i suoi prodotti causino un po' di aria nello stomaco. Quindi il mio dubbio principale nel caso di Medifast riguarda il prodotto quindi tenete ben a mente questo. Io probabilmente se non ci fossero queste problematiche non avrei mai venduto Medifast perché era una value growth ed era veramente una società estremamente interessante. Tra un po' guarderemo il bilancio e vedrete che è sostanzialmente la perfezione. È uno dei migliori bilanci che io abbia mai visto in vita mia. C'è crescita, c'è cash flow, ci sono buyback. È veramente perfetto il bilancio. Quindi è una società molto interessante però c'è sempre questa spada di Damocle del report short della possibilità che i prodotti non siano effettivamente tanto buoni. Però adesso andiamo direttamente a vedere il report degli analisti di Freedom24. Dal 2016 al 2021 la società non ha fatto altro che accrescere i suoi ricavi in maniera veramente notevole. Sono passati da 274 milioni a un miliardo e mezzo. Una crescita spropositata. E l'utile netto è stato addirittura decuplicato. Veramente dei risultati impressionanti. Lo stato patrimoniale è a dir poco perfetto. La società ha 122 milioni in disponibilità liquide. Non ha debito a breve. non ha debito a lungo. Ha un po' di capital leases che sommati tra breve termine e lungo termine arrivano a 30 milioni. Quindi la società ha molto più cash rispetto a debiti. Il target price di Freedom24 per Medifast è di 327 dollari. Il dividendo è del 3,6%. Medifast è una società che effettua multi-level marketing. Questa è una metodologia di vendita molto simile a quella di Herbalife in cui si hanno dei rappresentanti che comprano i prodotti della società per poi rivenderli ai clienti. Però il rischio di rivendita sta tutto nel venditore. La società una volta che ha venduto i prodotti al venditore ha finito il suo compito. E la società si occupa di vendere prodotti per la perdita di peso. Qua Freedom24 ci mostra che i target price delle banche nei confronti di Medifast sono molto ottimisti. Le due banche di investimento che la seguono hanno piazzato un target price di 300 e uno di 341. E Freedom24 ci dice che in base alle loro valutazioni utilizzando il discounted cash flow il fair value della società potrebbe essere 327 dollari. Un'altra cosa fantastica di Medifast è il fatto che la società paga dividendi e fa addirittura buyback. Come vedete nel 2021 hanno speso circa 125 milioni di dollari tra buyback e pagamenti di dividendo. E la market cap della società è di 2 miliardi. Quindi sono piuttosto generosi con gli azionisti. L'attuale price earning forward è di 11. Siamo a livelli di minimo storico. Come vedete raramente l'azione è andata a questi livelli. È successo durante il periodo pandemico e durante la crisi del 2008. E il price earning medio è di 17,77. Le stime degli analisti sono un po' povere nel senso che è poco seguita dagli analisti quindi le stime sono un po' inaffidabili direi come minimo visto che nel 2024 prevedono una decrescita dei ricavi del 18% ma a mio avviso non ha alcun senso questa previsione. Madeifast è una società che mi piace tantissimo. Mi è dispiaciuto tantissimo vendere però l'ho fatto perché non avevo modo di confutare quanto veniva detto nel report short. E sinceramente facendo questo video mi è venuta voglia di investire in Madeifast perché ha una valutazione assurda e una crescita veramente strepitosa è una società fantastica però devo prima fare qualche ricerca sui prodotti assolutamente probabilmente mi metterò a giocare un pochino con i forum americani e a vedere cosa dicono le persone sui prodotti. Questa penso sia la prima cosa da fare nel caso in cui si voglia pensare di investire in Madeifast. Bisogna cercare di capire cosa pensano le persone dei prodotti e cercare di capire soprattutto se questi facciano male alle persone se abbiano degli effetti negativi sulla salute delle persone. Quindi devo dire assolutamente bravi agli analisti di Freedom24 queste due azioni sono estremamente interessanti e sono già presenti nella mia watchlist. Quindi vi consiglio caldamente di andare a dare un'occhiata alle idee di investimento di Freedom24 ce ne sono altre molto interessanti e probabilmente ci farò un video in futuro. Ovviamente queste due azioni si trovano sulla piattaforma di Freedom24 se volete vedere un video in cui ho spiegato in maniera dettagliata come funziona la piattaforma come funziona un po' il broker quali siano le sue condizioni andate a vedere questo video. Fatemi sapere cosa pensate di queste due azioni scrivete un commento e ricordatevi ovviamente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi per questo video è tutto fino alla prossima volta buoni investimenti a tutti ciao